Buonasera, ben trovati a tutti, l'orario è avanzato, quindi so che è tutto il giorno che come me girate e ascoltate un sacco di presentazioni, ne avevo prevista una di 4 ore ma l'ho ridotta a 12 minuti e 30 così cercando di tenerla anche leggera. Eviterò di dire tutto quello che avete sentito oggi perché si è parlato un po' di tutto, di tante cose, cercherò di andare veloce, rapido. Io sono Bruno Felicetti, sono direttore di una piccola DMO nel Trentino, in montagna, Val di Fiemme, è una località che non è fra le più note del panorama alpino. Mi è stato chiesto di venire qui a raccontare alcune esperienze concrete, dal digitale al reale. Io da 25 anni sono in trincea, lavoro gomito a gomito con gli operatori, poi oggi ho sentito Carlin Petrini che ha detto che bisogna fare del turismo una missione, quindi userò il termine del missionario più che anche dello stratega o del guerrigliero, del soldato perché forse in questi tempi è anche meglio. Allora, prima di tutto una buona notizia, Darwin ci dà speranza, ci dice che in un mondo in continuo cambiamento non vincono i migliori, non vincono i più bravi, non vincono i più forti, non vincono i più intelligenti, ma chi sa adattarsi meglio a questi cambiamenti. Quindi per noi c'è speranza perché siamo convinti di giocarsela e forse anche per molti di voi che hanno un albergo normale, in una località carina ma non la più nota e quindi non può vivere di rendita da posizione ma deve ogni giorno impegnarsi a fare qualcosa di nuovo. Allora un giorno mio figlio mi ha chiesto ma papà che lavoro fai? E gli ho detto guarda io sono il direttore di un APT e lui mi dice ma cosa vuol dire APT? Allora lì in quel momento mi è venuto in mente una riunione con degli albergatori che abbiamo fatto nelle nostre valli e dopo che abbiamo spiegato un progetto che cercava di coinvolgere gli operatori, convincerli a partecipare, tutti i temi che sono difficilissimi da fare, questo albergatore alza la mano e dice adesso ho capito cosa vuol dire APT, avanti per tentativi. Ed è vero, noi dobbiamo continuamente provare, tentare, fare cose nuove per affrontare questo mondo che sta continuamente cambiando, sta cambiando la velocità che non ce ne rendiamo conto, impariamo una cosa che è già andata fuori moda, ci dicono che bisogna fare queste cose e sei mesi dopo non funziona più e quindi voi immaginate la fatica che si fa a coinvolgere operatori di una destinazione a fare dei progetti reali e concreti. In realtà APT sta per azienda per il turismo ma anche qui abbiamo tolto la parola turismo perché turismo è troppo legata agli albergatori, abbiamo messo territorio perché territorio coinvolge tutti, anche quell'indotto di cui si parlava nell'incontro precedente, artigiani, commercianti, liberi professionisti che vivono di turismo in maniera indotta e quindi se vivono di turismo dovrebbero anche loro sentirsi parte di un sistema, un sistema economico ma anche sociale perché ci sono anche tante associazioni di volontariato, associazioni culturali che collaborano con il territorio, integrato. Allora il dizionario dice che un sistema è un insieme di elementi interconnessi fra di loro e con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni ma che si comporta come un tutt'uno. Quindi interconnessi, relazioni, tutt'uno. Funziona così nella vostra destinazione? No. No. Allora il sistema non è che perché siamo un sistema è normale, scontato, che funzioni. Sta a noi cercare di capire perché non funziona e da qui torniamo ai tentativi. Dobbiamo imparare a fare quello che fanno questi signori qui. Un parco di divertimenti che sia Gardaland, Disney, dentro il proprio recinto funziona benissimo. Tutto fila meraviglia, le attrazioni parlano con chi fa il catering, la security è coordinata con le casse, le casse sono coordinate con chi vende i gadget, il merchandising, tutto funziona. Allora è chiaro che una destinazione non può porsi questo modello, no? È un luogo, è un'offerta non autentica, non legata al territorio. Certo ma noi dobbiamo passare a fare un parco delle emozioni. Dobbiamo riconoscersi comunque in un territorio che vende, propone emozioni. Sempre mio figlio mi dice ma cosa fa un APT? Allora a voi vi dico una cosa un po' più complessa di quella che ha detto lui ma in realtà l'APT, un ADMO, definisce con i partner del territorio un'idea di sviluppo appropriato le strategie per conseguirlo. Quindi abbiamo bisogno di condividere un'idea, un'idea di come fare turismo nel nostro territorio. Allora uso l'acronimo idea per cercare di capire le quattro cose che noi assolutamente dovremmo fare. Dovremo innovare, dovremo creare delle cose nuove ogni stagione, ogni anno. E quando dico noi intendo l'ADMO, l'albergatore, il maestro di sci, il bagnino, insomma dipende da dove ognuno di voi opera. Le innovazioni per resistere devono essere fatte insieme. Le innovazioni individuali durano poco, una fiammata. Se va bene viene copiata immediatamente, se fa male sei un imbecille perché nessuno te la copierà. Quindi se noi proviamo a innovare insieme è più faticoso perché mettersi d'accordo è molto più difficile, però c'è più probabilità che queste innovazioni durino nel tempo. Vanno basate su delle informazioni, non sul secondo me, su delle informazioni, su dei dati. Prima se ne parlava molto bene. La D sta per distribuzione. Una volta che io ho creato un progetto, un'idea, una novità nella mia destinazione, la devo far sapere ai potenziali clienti, la devo distribuire. Una volta si usava il termine promo commercializzazione che per gli albergatori capivano solo commercializzazione e per chi come noi stava negli uffici turisti capivano solo promozione. Non si andava mai d'accordo. Quindi distribuiamo il prodotto, distribuiamolo sui vari canali. Sono sempre di più questi canali, bisogna trovare sullo scaffale virtuale la possibilità di acquistare questo prodotto. È sempre più una distribuzione digitale, sempre più diretta. Quindi c'è spazio alla creatività. E è stato detto in questi due giorni tantissimo, engagement, ma forse prima dell'engagement c'è l'esperienza, l'erogazione del servizio. Io posso inventare una cosa, distribuirla bene, poi uno arriva in albergo e non funziona, uno arriva in una località e non funziona, tutto il lavoro fatto a monte non serve a niente. Quindi serve coinvolgere il cliente, il turista, erogare in maniera adeguata i servizi e serve soprattutto che lui si emozioni, che vada a casa e dice che bel posto, mi sono divertito, è stato bellissimo, è stata una cosa unica. Se torna a casa, com'era quel posto? Ma sì, carino, abbiamo già perso. L'A sta per awareness. L'awareness è la notorietà. Su questo tutte le Dimeo sono bravissime. Basta aver soldi. Acquistare spazi pubblicitari, striscioni a bordo campo, banner su tutti i siti, non è un problema, è facilissimo. Creare awareness è facile, soprattutto di brand, sempre meno di prodotto, perché uno può essere un brand noto ma non si capisce su che prodotto è forte, non c'è un'identità forte di prodotto, ma è soprattutto legata alla reputation che abbiamo visto, che anche questa è molto significativa, che a sua volta è legata alla capacità di emozionare e di erogare in maniera adeguata il prodotto. Allora, è come un tavolo, se una di queste gambe, di questo tavolo, è più alta delle altre, il tavolo non sta in piedi. Se mancano delle gambe, il tavolo ancora meno sta in piedi. Quindi la capacità è quella di mettere in equilibrio questi elementi. Al centro cosa ci sta? Il punto G, la governance. Serve una regia, serve qualcuno che crei le modalità per lavorare bene assieme. serve... Ecco, la governance se ne parla tanto, ma cos'è? Chi riesce a governare questo tavolo? Chi riesce a far dialogare i vari soggetti che devono operare attorno a questo tavolo? Bene, ma cosa cerca il turista? L'abbiamo detto. Cerca emozioni. Emozioni però ricche di che cosa? Ricche di ecosostenibilità. Oggi la destinazione deve essere green, per definizione. Quindi tutto quello che noi vogliamo innovare deve essere ecocompatibile. Deve essere autentico. Deve essere legato al territorio, all'ambiente. Servono movimenti, attività che facciano muovere il corpo e la mente. Servono relazioni, il più possibile con i local, con le persone che vivono in quel posto. Quindi qui tutto il tema degli insider, degli esperti locali. Serve anche organizzazione. Perché se non organizziamo bene le cose, noi possiamo raccontarla in lungo e largo, ma se io vado, prenoto un corso di sci e non c'è il maestro, tutto cade. Allora se proviamo a metterlo in ordine, esce un'altra parola magica. Il cliente vuole essere amato, vuole essere coccolato, vuole essere cullato, vuole sentirsi unico. Se noi lo amiamo, lui ci segue, diventa un nostro follower e ci promuove la località, l'albergo, la scuola di sci, il bagno, eccetera. Bene, voi direte, ma voi cosa avete fatto? Perché qui fino adesso è tanta fuffa e tanta teoria. Ma noi abbiamo provato a creare, a copiare una guest card che lega alcune attività del Trentino con alcune attività della nostra località. Noi abbiamo offerto da due anni la possibilità per i nostri ospiti, in cambio di due euro a presenza, di avere tutti gli impianti gratuiti, di avere tutta la mobilità in tutto il Trentino, compresi i treni, di avere tutti gli accessi ai musei Castelli del Trentino, cento attività emozionali sul territorio per famiglie, per vacanza attiva, per tradizione e gusto. Tutto compreso in due euro. Vabbè, ma guest card ce ne sono nel mondo tantissime. Qual è la novità? L'abbiamo legata alla tanto discussa tassa di soggiorno. Noi non facciamo pagare una tassa al cliente perché le tasse non piacciono ai clienti. Noi facciamo pagarla a card di soggiorno. Abbiamo cambiato una parola, da tassa di soggiorno a card di soggiorno. E com'è andata? Beh, prima vi dico da dove è partita, con i dati veloci. A sinistra, a Val di Fiemme, a destra i nostri cugini altoattesini, che sono sempre più bravi di noi. Quindi, a giugno noi abbiamo un riempimento lordo dei posti letto del 18%. I nostri cugini altoattesini, tre chilometri al di là della nostra valle, tre chilometri, stessa montagna, arrivano al 38%. Settembre 27%, i nostri cugini 47%. Guardate, luglio, agosto siamo più bravi noi. E perché secondo voi? Eccolo qua. Allora, scusate. Loro hanno il 33% di clientela italiana e noi il 90%. Vanno bene gli italiani, non è che... Però si concentrano a luglio e agosto. Se io voglio lavorare a giugno e a settembre ho bisogno di clientela straniera. Quindi siamo partiti con una card, quindi un progetto che coniuga mobilità dolce, qualità della vita, attività emozionanti, sia per residenti che per ospiti. Questa card può essere acquistata anche dal residente. Perché se io riduco il traffico in una valle, faccio del bene anche a chi vive in quella valle. Ci siamo dati degli obiettivi, vado velocissimo, abbiamo deciso di incrementare il 2% l'anno del tasso di riempimento a giugno e settembre. Abbiamo deciso di incrementare del 2 punti percentuali ogni stagione, estiva, gli stranieri, aumentare il valore delle presenze. Questa è una parola magica, la fidelizzazione del cliente, quindi meno booking.com, più diretti, sviluppare prodotti di nicchia, mini eventi, migliorare la qualità della vita e l'emozionalità della vacanza in Val di Fiemme. La vera sfida era convincere il cliente che la card non è la solita tasse, ma un vero affare, costa 2 euro, ne vale almeno 10. Allora vediamo com'è data. Questo è cosa dicono gli operatori. Abbiamo intervistato tutti gli operatori, in tutto il Trentino, sono un migliaio che hanno aderito alla proposta, in Val di Fiemme sono un centinaio. Allora il 97-98% dice che i clienti sono estremamente soddisfatti. Il 54% dicono che hanno avuto recensioni positive, una reputation migliore. La media del Trentino è 29, in Val di Fiemme il 54%. I casi turisti che hanno scelto la struttura per la card, il 45% hanno scelto la struttura turistica perché c'era la card, 45%. Il 41% sono tornati perché l'anno prima l'avevano sperimentata e gli è piaciuta. Il resto poi il prolungamento del soggiorno, poter praticare proposte, tariffe più redditive, qui siamo su dati più normali. Questo è un commento di Giorgio, un nostro cliente, che ha detto che è uno dei pochi in caso in cui pagare la tasse di soggiorno ti dà un beneficio. Per noi basta questo. Questo è un altro aspetto. I turisti che hanno la card consiglialo nel 93,9%, 94% in caso una vacanza in Val di Fiemme. Chi è senza card, questo tasso scende al 65%. Questi sono i numeri. Nel 2013 giugno aveva un 17,9% di riempimento, siamo arrivati al 21,1%. In due anni più 3,2%, cioè più 3,2%, non il percentuale un po' di più, siamo sotto l'obiettivo, c'era un posto obiettivo di 4, abbiamo un 0,8% da recuperare. A settembre invece siamo più 4,3%. Abbiamo raggiunto l'obiettivo e superato. La domanda è quella scontata. Come fate a coinvolgere gli operatori? Questa è la cosa che tutti i miei colleghi di qualsiasi destinazione mi chiedono. Usiamo il DDT. DDT sta per Digital Direct Trading, ma quell'albergatore famoso ha detto questo è il casino della promozione. Forse ci ha tolto anche l'accento. Come funziona? Ogni proposta di vacanza nella stessa situazione ha una vetrina online, una vetrina commerciale. Se tuo albergo vuoi essere in quella vetrina, devi acquistare una fish e puntare questa fish. Ogni fish costa 250 euro e noi ti garantiamo un click sulla tua scheda hotel in cambio dei 250 euro. Quindi 250 click. Poi cerchiamo anche di garantirti almeno una pronotazione. Quindi se tu hai raccolto 250 click ma non hai neanche una pronotazione online, resti in vetrina finché non porti a casa una pronotazione. Se al termine della promozione hai ancora dei click residui, li sposti su un'altra promozione. Questo perché? Perché abbiamo voluto spostare l'attenzione che c'è sempre. Abbiamo fatto questo qua. Ah, neanche una pronotazione. Non funziona. Non funziona niente. E quindi sempre inventare cose nuove. Ci siamo posti degli obiettivi raggiungibili. I click sono raggiungibili. La visibilità interessa a tutti. Chi di voi non acquista delle Google Adwords per avere dei link al proprio sito? Ve lo diamo anche noi. Ve lo diamo da un cliente che ha già scelto e già conosce la destinazione. Poi ci sono i vari pacchetti ma questi... E questo è quello che è successo. Abbiamo creato il tavolo dove ogni bigliettino giallo sono 250 euro. Ecco guardate in poco tempo abbiamo raccolto un bel po' di soldi che abbiamo investito nella nostra promozione. Bene, chiudo con lo spot. Le nostre piste sono aperte. Da domani si scia quindi vi aspettiamo. Grazie.